Ben trovati dal Tg della mobilità, chiusura al traffico nella zona del Colosseo per l'evento che dalle 16.30 vedrà Papa Francesco e i rappresentanti delle maggiori religioni uniti in una preghiera per la pace e contro tutte le guerre. L'evento è stato promosso dalla comunità di Sant'Egidio, limitazioni e modifiche per la viabilità in via dei fori imperiali, via Cavour, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio, via Benna, via di San Gregorio e via Le Parco del Celio. Prevista la chiusura della fermata Colosseo della Metro su percorsi alternativi le linee 3, 51, 75, 81, 85, 87, 117 e 118 e tutto per questo appuntamento con il Tg della mobilità.